E nella notte di plenilunio si alzerà all'orulato del lupo mannaro. Il terribile grido farà tremare gli uomini, costringendoli a chiudersi nelle loro case. Allora il lupo mannaro si incamminerà alla ricerca di cibo, sbranando chiunque si presenterà sul suo cammino. Poi, una volta sazio, si rifugierà nel profondo del bosco e se troverà un branco di veri lupi, si aggregherà a loro. Ma quando verrà scoperto e ucciso, soltanto allora, dopo la morte, riacquisterà le sembianze umane. Che succede? La figlia del conte, Daniela, è scomparsa! Perché tante armi? Dove siete diretti? Un lupo mannaro si aggira nella zona! Perché la Vergine ci assista? Bisogna catturarlo! Ma Daniela, dove sta? Dobbiamo trovare anche lei! Su, andiamo, non perdiamo tempo! Su, andiamo, non perdiamo tempo! Su, andiamo, non perdiamo tempo!